Ciao Davide, anche tu qui! Piacere di rivederti! Piacere mio! Ma cosa si fai al GP delle officine Petronas? Sai che per le sfide sono portato e quando si tratta di performance mi faccio sempre trovare pronto! Ma scusa Davide, ma tu non correvi in Formula 2? Sì, ma oggi, oggi sfide migliori meccanici della rete Petronas! E ci divertiremo un sacco! Ma scusa, ma perché li ritieni migliori? Ah è perché sanno sempre quali prodotti sono i migliori da utilizzare per i loro motori e soprattutto come lubrificante utilizzano Petronas Intium che per le performance e le competizioni è il migliore sul mercato! Davide, ma è vero che i lubrificanti Petronas sono made in Italy? Certamente, lo stabilimento è in provincia di Torino dove si trova il centro globale di ricerca e sviluppo Petronas! E scusami, vorresti aggiungere qualcosa dopo questa meravigliosa giornata insieme a Petronas? Prima di partire per le vacanze, rivolgetevi alle officine Petronas per il controllo stagionale della vostra auto! È sinonimo di qualità e professionalità! Davide, sei dirci quali sono le novità Petronas in questo periodo? Vince e viaggia con Petronas! È il concorso a premi che ti permette di avere, quando fai il cambio olio con Petronas, il 20% di sconto sui prodotti! Ma oltretutto, Davide, ho sentito che Petronas ti porta in vacanza, ma è vera questa cosa? Vero, perché se farai il cambio olio con Petronas c'è la possibilità di vincere ogni mese una vacanza da sogno per due persone all inclusive in un resort in Sicilia! E al giorno ci sono in paglio tre zaini Petronas! Ma scusa, ma allora cosa stiamo aspettando, Davide? Andiamo, portiamo la nostra macchina in officina, penseranno loro a renderla sicura e performante! Ciao!